Mi chiamo Giovanni Poggiari, sono amministratore delegato di Fensina S.P.A. Il vino preferito, non lo dovrei dire perché sono tutti figli, è dello stesso padre, ma è questo che ho in braccio, che è Arancia, che è un cru nato nel 1983 da un podere antichissimo che si chiama Arancia e che è stato identificato sin da allora come un luogo di eccellenza per il San Giovese di Fensina. La mia più grande soddisfazione in questi anni è stato poter lavorare in un luogo che non è soltanto ricco di storia, come i nuovi Chianti, e di bellezza, ma anche di tanta umanità. Questo è senz'altro il più grande privilegio che ho avuto. Un fatto particolare che vorrei condividere potrebbe essere la mia storia personale, che è quella di un ragazzo che si iscrive a legge all'Università di Siena e che dopo sei mesi va dal suo padre e racconta la storia che la viticoltura è molto più bella, era il 1990, quindi una grandissima annata per il Chianti Classico e io scelsi allora, 18 anni, di dedicare la mia vita a questo. Credo che di tutte le cose meravigliose che ho vissuto a Fensina, forse questa è la più significativa personalmente. Grazie per la visione!